Allora, la prima C che ha fatto il libro, guardate, è veramente eccezionale Allora, guardate questi lavori, io ci tengo Grazie Allora, questo è il libricino, i racconti dell'anima di Ciliati della terza C Questa è la luce dell'inocenza di Ciliati della prima C Ma anche questo che, diciamo così, perdonatemi perché la Commissione ha espresso proprio questo parere importante di quest'altro lavoro, le dodici tavole della Costituzione della donna Questa è della prima C E' un lavoro significativo, interessantissimo Che, se avete piacere di consultarlo, ci potete anche venire a casa e ve lo facciamo vedere Ecco qua, grazie Grazie Aspetta, aspetta Lei, Deborah Bravissimo, probabilmente Allora, le loghe a tutti gli alunni del prezzo di Ciliati e a tutti i docenti Perché quando si viene insieme e c'è una scuola intera presente, vuol dire che c'è tanto lavoro Non solo da parte dei ragazzi, dei docenti, ma anche delle famiglie che credono in noi E questo ragazzino ha curato tutti i disegni che sono stati messi insieme in un collage di fumetti Per realizzare la Costituzione della donna di Ciliati Grazie, bravo Grazie, bravo Brava Cosentino Grazie Sono uno dei piccoli interventi Ti mostro subito Grazie Grazie Gravissimi come me Speriamo che riuscirà uno dei grandi artisti E così potranno dire che ho partecipato al premio Prossimo premio Grazie Ve l'annuncio Entro la primavera faremo questo premio importantissimo E ci sarà un altro evento che, diciamo Escarapria Diciamo, non vi preannuncio Allora, passiamo all'arte principale Terzo posto è il secco Allora abbiamo Fate attenzione perché altrimenti anche qui abbiamo il CD e qui abbiamo tutti questi lavori Abbiamo la seconda A, la seconda B e la seconda C dell'Alfano Quasimodo La professoressa Nadia Gallo E ha collaborato anche con la professoressa, penso a Fiosi La professoressa Fiore Stefania D'Italiano La dirigente scolastica è sempre la preside Lisa Barone Che tiene non solamente l'istituto pubblico a Fano Quasimodo Ma anche il liceo statale a Fano I Certo ci sono, sì ecco qui stanno arrivando Siete pronti voi con i premi? Gianluca Lancellotti vuoi consegnare? Consegno a Gianluca Lancellotti Certo ci sono La professoressa c'è anche la professoressa Elika Romano Se non sbaglio dovrebbe essere B.C. Il corso B.C. Insegno italiano C'è ecco qua Allora lasciate in mezzo lo spazio Alla grado, poi per te sentire come viene Sopra a Gianluca Consegno E si preparano invece Vabbè Matteo e Mari l'abbiamo fatto Professionista Lancellotti Vabbè no? Abbiamo chiuso con... Quindi già l'abbiamo fatto Bene, complimenti Vabbè Vabbè questo è giusto, è giusto Andiamo avanti Secondo posto Terzo premio Seguo L'istituto Matteo Mari No, già l'abbiamo fatto E' il primo che mi va messo la mia Secondo posto L'istituto Bairo Ecco Per esempio con sagome di cartone Professore Professoressa Manolando Maria La classe è la seconda Emma C'è E ritira Menza La professoressa Menza E' vero Facciamo il contratto Grazie Allora Giratevi sempre Di spalle a me E invece al pubblico Dovete Di prospetto La borsa la potete posare Per l'istituto Questa è la cosa Per l'istituto Per l'istituto Per l'istituto Per l'istituto Per l'istituto Per l'istituto